Bentornati e ben ritrovati qui nel canale YouTube Hermes Channel Web TV in un altro sai che. Oggi in particolare parliamo ancora una volta di storia di Castellanagrotte. Valeria, esattamente di cosa si tratta? È un itinerario molto speciale, pieno di scoperte e di storie di Castellanagrotte. Ricordiamo che Castellanagrotte è una cittadina nella provincia di Bari, situata sull'altopiano calcario della terra e dei trulli e delle grotte ed è conosciuta soprattutto per il complesso carsico delle grotte. Prologo a Don Nicola Pellegrino di Castellanagrotte ci ha consentito di raccontare la sua storia. In particolare parleremo delle icone votive. Votive, esattamente così. Vuol dire icone sacre che sono presenti a Castellanagrotte e ce ne sono ben sette icone. Molto interessante. Quindi vediamoci il video. Però prima di vedere il video iscrivetevi al nostro canale, cliccate mi piace sui video che vi piacciono e commentate, commentate e suggerite le vostre idee. Naturalmente vi dico anche se qualcuno ha interesse a sponsorizzare il nostro programma, il benvenuto naturalmente e grazie in anticipo. E adesso vediamoci il video! Ciao a tutti! Siamo in compagnia di Giovanna Tieuli e architetto Antonio Pace, soci della Prologo Don Nicola Pellegrino di Castellanagrotte. Oggi parleremo delle icone votive nel centro storico di Castellanagrotte. In particolare facciamo un itinerario ideale per farvi conoscere le immagini sacre in un giro del paese pieno di scoperte e di storia. Giovanna adesso ci troviamo a questa icona che tra l'altro hai restaurato. Cosa rappresenta? Qui vediamo rappresentata la Madonna del Carmine o Madonna della Stella. Infatti ha una stella sul vestito blu. È impreziosita da una conchiglia che rappresenta l'immagine sacra e in più ha dei colori molto brillanti. Probabilmente è databile al metà dell'Ottocento e si trova in questa posizione particolare sotto un'arcata perché è un punto di raccolta della gente, quindi dei fideli. O probabilmente perché di qui passava una grande processione. L'autore non si sa con certezza però è diciamo affiancato al nome di Sabino Orecchia, un artista locale chiamato Il Pittore e lui praticamente è l'autore di altre edicole votive di Castellana. Questa in particolare è la prima opera che è stata restaurata a Castellana grazie a un contributo interamente versato dalla Proloco. Giovanna qui vedo una rappresentazione, raccontaci. Infatti si tratta proprio di una rappresentazione. Abbiamo qui rappresentata in questa edicola votiva o icona la crocifissione con la Madonna. È una delle icone più preziose che abbiamo qui a Castellana perché si tratta di un dipinto sull'amina in ferro, un dipinto ad olio che raffigura quindi due protagonisti insieme anche a un paesaggio che probabilmente è risalente al Settecento e rappresenta le origini di Castellana. È posta qui in un luogo molto particolare, infatti questa era un'antica piazza di Castellana, una delle più importanti, che dava su una strada per l'ospedale e su una via principale. Qui invece vedo un faro? Sì, hai ragione, è rappresentato un faro perché questa che vediamo è la Madonna della Madia, è una Madonna che arrivò dal mare e quindi a testimonianza di ciò è rappresentato un faro. È un'icona molto importante questa perché detta la sorella della nostra patrona, in gergo la sorella, nel senso è una venerazione molto grande di questa Madonna e in particolar modo la vediamo qui rappresentata in una forma ottocentesca, dove se ne trovano altre molto simili a Monopoli, le possiamo vedere, ed è stata venerata per anni in questa strada con grandi feste, tant'è che passava anche una processione importante. È rappresentata con tutti i suoi simboli, con il bambino, con il vestito nero, con la barchetta, quindi possiamo riscontrarla nella sua piena globalità. Inoltre sicuramente il pittore che la rappresentò è il pittore locale, Sabino Orecchia, che qui lascia la sua impronta nella trasposizione di una mano con il mignolo distaccato. Proseguiamo il nostro itinerario e siamo in via Brindisi. Questa icona, Giovanna, mi sembra abbastanza importante, è vero? Sì, hai ragione, è una delle icone più importanti per Castellana, per il nostro paese, perché rappresenta la nostra patrona, la Madonna della Vetrana, con i colori che ora vediamo rappresentati sia nell'icona che viene portata in processione e sia nella statua. È un'icona che purtroppo è stata molto rimaneggiata, però si individuano ancora i tratti del pittore, che probabilmente è sempre lui, il pittore locale, Sabino Orecchia, che qui la rappresenta con il suo tratto distintivo, con la mano e il mignolo distaccato. Non ci sono altri tratti rilevanti da raccontare, da descrivere. Ci troviamo nella via Madonna degli Angeli. Giovanna, perché si chiama così? Allora, questa via si chiama via Madonna degli Angeli perché è qui rappresentata un'icona importante, quella della Madonna degli Angeli. Probabilmente quella che vediamo ora non è la sua originale, sicuramente non è la sua originale perché questa fu trafugata intorno agli anni Ottanta e per volere di un concittadino che ora abita all'estero, per ricordare questa icona, fu fatta rappresentare in memoria di quella che c'era prima questa raffigurazione che è sottila e quindi ed è molto recente. Però possiamo sicuramente datare quella precedente all'intorno al 1600-1600, fine 1600, perché c'è una scritta importante su un palazzo di fronte che ne riporta alcune testimonianze. Questa che vediamo qui è stata anche questa restaurata nella sua parte esterna. E l'hai restaurata tu? Sì, come le altre, sì sì sì. Per intercessione di molti concittadini che la volevano rivedere bella come era prima. Giovanna, in questa icona vedo un serpente. Sì, qui è rappresentato infatti la Madonna dell'Immacolata che porta sui suoi piedi un serpente, quindi è proprio un serpente. Questa Madonna è particolare perché è stata rappresentata su una via che probabilmente componeva le cinta murarie. Sicuramente è un'icona ottocentesca e probabilmente il committente fu il padrone di questa costruzione. Siamo all'ultima icona. Sì, infatti questa è diciamo l'ultima icona proprio nel senso globale dell'accusa perché è un'icona la più recente che abbiamo, probabilmente dei primi del Novecento, metà anni Trenta, rappresenta una Madonna molto particolare perché non è più venerata. È la Madonna con la croce. È un dipinto su tela di autore ignoto di cui si sa pochissimo. Probabilmente si sa soltanto che si effettuavano delle riunioni in questo piccolo slargo dove c'erano delle piccole messe e piccole raccolte di fedeli. Grazie alla dottoressa Giovanna Teuli e l'architetto Antonio Pace, soci della Proloco Don Nicola Pellegrino di Castellana Grotte. Tradotto e narrato in dialetto dall'architetto Antonio Pace su testo della restauratrice Giovanna Teuli. Speriamo che questa curiosità storica vi è piaciuta e vi è stata anche utile. Sai che può interessare o coinvolgere anche te! Grazie a tutti! Grazie a tutti!